Si festeggiano oggi i 190 anni dell'Istituto Caracciolo di Procida, un istituto nautico che qui a Procida è una vera e propria istituzione. Tantissimi capitani, uomini di mare, sono usciti da questa scuola. Sì, è eccezionale celebrare questa storia perché già una cosa antica, come dire, ci riempie il cuore di orgoglio. Il 1833 significa i Borbone all'epoca e tra l'altro l'istituzione del nautico comunque viene dopo la sperimentazione di una scuola nautica che già c'era stata negli anni precedenti. Quindi già di per sé questa è una cosa bella. In più è la scuola, punto di riferimento, che come dicevi tu ha formato generazioni e generazioni di marittimi che poi sono andati in giro per il mondo. Tra l'altro per combinazione, mentre stavamo festeggiando e mentre è in corso il convegno, ho sposato civilmente un marittimo che ha preso in moglie una donna inglese che ha incontrato a bordo delle navi. Quindi è la storia della nostra comunità, delle vite concrete, quotidiane, dei nostri concittadini che sono partiti dal nautico, sono andati in giro per il mondo e hanno costruito le loro esistenze a partire appunto da questa frequentazione di questo istituto che continua a frequentare, che continua a formare anche le giovani generazioni. Dei festeggiamenti che sono cominciati il 6 e che oggi si concludono anche in presenza di istituzioni e di autorità proprio nel campo marittimo come Vitiello. E c'è stata anche la nave Palinuro a cui i giovani studenti sono andati in visita. Sì, gli studenti sono stati protagonisti di questi festeggiamenti perché la festa iniziale lì all'istituto era gestita da loro, con loro che conducevano, con le loro performance artistiche, poi c'è stata la discoteca, il momento di divertimento, quindi i giovani se la sono goduta fino in fondo questa bella festa. Tra l'altro quello che sottolineavo è che c'è un certo contrasto piacevole tra i 190 anni, quindi un'istituzione così vecchia, così antica e le giovani generazioni, ragazzini 17-18 anni che si stanno per diplomare e che festeggiavano questa scuola antica. Quindi un momento istituzionale oggi che chiude questa bella festa e abbiamo avuto il piacere di avere l'ammiraglio Vitiello, l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini, direttore Acerra, quindi poi tantissime personalità del cluster marittimo che sottolineano che questa comunità è una famiglia allargata con tutte le persone che si occupano di mare e che si trovano a casa quando vengono a Procida. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo avuto più volte nel canale di Procida e in rada a Procida sia la Vespucci che la Palinuro per varie iniziative legate a Procida Capitale. E' sempre una soddisfazione, una contentezza per noi isolani perché siamo particolarmente legati anche a queste navi storiche dove tanti dei ragazzi che hanno fatto il militare sono andati in quell'anno in cui hanno dedicato un po' di tempo allo Stato. I 190 anni per noi hanno rappresentato una verifica, una verifica proprio di quanto questo istituto appartenga al territorio. Infatti la manifestazione ha avuto tre momenti. Una parata sul mare aperta dalla nostra lancia a Remi con gli alunni e i docenti di navigazione seguita dalle barche di diplomati in pensione che hanno voluto rendere omaggio all'Istituto Nautico più una serie di motoscafi, charter che si sono aggiunti proprio perché altri alunni con lo stesso diploma hanno sviluppato queste società di charter, di noleggio, di barche a vela famose in tutto il mondo. Quindi martedì è stato veramente un momento emozionantissimo. Abbiamo avuto anche i kayak, un altro diplomato della nostra scuola che ha dato la possibilità ai ragazzi di toccare il mare col kayak. Poi abbiamo avuto giovedì la serata organizzata dai ragazzi che è stata un tripudio di partecipazione da parte di tutti i ragazzi con i rispettivi genitori dove veramente i ragazzi hanno fatto mostra dei loro talenti. Chi ha cantato, chi ha suonato, chi ha presentato delle slide sull'inquinamento dell'aria e chi è andato a cercare le prime donne diplomate per capire come era tanti anni fa essere alunni e studentesse di un istituto nautico. E poi c'è stato il momento della premiazione dei nostri studenti che si sono distinti nella gara nazionale dei nautici, dei nostri studenti che hanno fatto una carriera nell'ambito marittimo. E sono venuti con la divisa perché bisogna dirlo, in breve tempo, dopo il diploma gli studenti diplomati cominciano subito a lavorare, fatti i corsi di base, quindi c'è una richiesta di diplomati nautici molto elevata. Quindi è stato molto bello. Oggi invece concludiamo con un convegno con personalità del settore marittimo proprio per chiederci qual è il futuro della navigazione. Il nuovo governo finalmente ha istituito il Ministero del Mare proprio per dar conto alla nostra realtà di un'economia marittima molto forte che deve essere curata e soprattutto a partire dalla formazione. Infatti noi nautici facciamo parte di un sistema di gestione per la qualità monitorato costantemente con audit dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, da enti certificatori, dall'EMSA. Abbiamo un audit annuale proprio sulla correttezza delle procedure messe in campo perché il diploma rilasciato da questo istituto è un diploma abilitante a tutti gli effetti. Noi come iscritti siamo in controtendenza perché l'istituto comprende anche indirizzi liceali, abbiamo lo scientifico, il linguistico con l'opzione ESABAC e il liceo delle scienze umane. Siamo in controtendenza perché a differenza delle scelte nazionali che premiano il liceo noi invece abbiamo una maggiore scelta sul nautico, sull'istituto tecnico. Le ragazze preferiscono questa formazione ma come dire la nostra offerta formativa si vuole sempre presentare completa, offrire un ventaglio di opportunità formative ai ragazzi perché ogni ragazzo, ogni ragazza ha una sua diversità, ha una sua individualità, identità che deve venire fuori. Quindi sicuramente il nautico la fa da padrone perché comunque il nautico approcida ha radici lontane ed è nell'immaginario di ognuno di noi. Però siamo impegnati anche sul fronte liceale per mantenere questi indirizzi. Poi per quanto riguarda la parola futuro, a me il futuro mi dà l'idea di un sistema, di un sistema dove noi erroneamente diciamo che il futuro tocca ai giovani, ma dobbiamo dircelo, il futuro spetta a noi, a noi che dobbiamo dare buone basi, buoni punti di partenza per questo futuro. Questa mattinata, come ci suggerisce lo stesso titolo del convegno, parte da una base storica che sono i 190 anni di cui siamo orgogliosamente fieri, fa parte proprio dell'identità isolana, ma è proiettata verso il futuro perché il lavoro sul mare è un lavoro che dà grandi soddisfazioni, ma richiede grandi competenze e quindi stamattina faremo un po' il punto della situazione per capire quali prospettive ci sono e cosa fa scendere in campo per aiutare gli studenti a inserirsi in maniera positiva e con successo nel mondo del lavoro sul mare. Stamattina abbiamo qui con noi il presidente della Confitarma, il dottore Luca Sisto. C'è una rappresentanza della Marina con l'ammiraglio Vitiello e poi c'è ovviamente l'assessore regionale Fortini e c'è il direttore dell'ufficio scolastico regionale, il dottore Ettore Acerra. È un parterre eterogeneo perché deve dare un punto di vista al convegno, sia da quello professionale, quindi con l'apparato marittimo, ma sia anche quello scolastico perché poi il Nautico praticamente dialoga con questi due ministeri, il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell'Istruzione. In questi giorni c'è stata anche una nave militare, la Palinuro, perché i festeggiamenti sono iniziati il 6. I festeggiamenti sono cominciati il 6 con una parata sul mare a cui hanno partecipato anche tutti i diportisti, tutte le associazioni delle barche a vela, del kayak, e hanno coinvolto anche gli studenti. E sono praticamente, la parata ha seguito l'antica lancia dell'Istituto Nautico che ha 12 vogatori e quindi ha aperto questa sfilata e abbiamo fatto il periplo dell'isola. Poi sono proseguiti a scuola per dare proprio voce agli studenti, la ricerca delle storie anche degli ex studenti. E quindi c'è stata questa festa scolastica, quasi come un ballo di fine d'anno, in cui però ovviamente si è parlato di chi ha frequentato la scuola, di quelle che sono state le difficoltà, i successi ottenuti. Ed è stato molto emozionante questo rivedere tante persone, anche degli ex insegnanti, dopo tanto tempo. E ad oggi finiamo. Con anche l'invito nei confronti delle studentesse, anche quelle del passato, che si sono diplomate nell'Istituto. Sì, abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione sulle studentesse, quindi la parte femminile che ha sempre usufruito dell'Istituto Nautica. forse probabilmente all'inizio, perché era l'unica scuola, come probabilmente si capirà anche dalle testimonianze delle ex studentesse. Ma poi anche ci sono tornate, ci sono ancora, perché ancora oggi abbiamo delle classi con una bella presenza femminile. E' una storia che dura da tantissimo tempo. Infatti le studentesse che anche oggi saranno premiate, saranno omaggiate con una pergamina, con un ricordo, ormai sono oltre 80 anni. Quindi il loro affetto è rimasto immutato. E anzi, ci tengono sempre a ricordare che hanno avuto una grande opportunità da questa scuola, un'opportunità di formazione, di apertura mentale, di incontri, una grande opportunità. Taro Lavadera, Maria Capitana, Lucia Stolpe di Catalo, Anna Capurano, Lucia Stavano, Maria Lampano, Tanta Stante, e a me lo stiamo. E la presenza da Maria, Ma abbiamo anche le nostre eccellenze qui oggi. Abbiamo dei ragazzi che sono distinti nell'anno scolastico. Abbiamo Francesco Lugrano Amaro, che ha vinto la gara nazionale penale per la scuola scena con il fine nazionale. Abbiamo Ibera Tariccio, il ciclismo di prodotto e il salato di spiattoli di carattura. Abbiamo Andrea Antonio Amaro, tra i primi classificati e i bandiolati non ce l'anni, i scelmi naturali di psicologia. Abbiamo Stagni Celato, vincitore del Cosa Cisino, tra tutti i capitali, nata a lavoro, la pratica al fondo per rimandare la musica di un'attività progettiva e di un'attività di crescita. Ecco abbiamo Stagni Celato, che è già stato peccato l'indialante a Cris, vincitore del concorso il piano di fuoco e alla vicinità. I 190 anni dell'istituto Caracciolo di Procida. È un'istituzione per quanto riguarda l'isola. Da questo istituto sono usciti tantissimi capitani e uomini di mare. Devo dire che questo è un connubio che mi piace tanto. C'è tradizione e innovazione che si incontrano in un luogo che è meraviglioso, al quale sono particolarmente legata. Mentre mi intervistano io vedo il mare. Questa è, credo, veramente una cosa eccezionale. Qual è il tema dal mio punto di vista? Troppe volte noi non guardiamo al talento dei ragazzi o a quello che in qualche maniera potrebbe essere il motivo per alzarsi la mattina e lavorare, ma ci facciamo in qualche maniera ingabbiare da quelle che sono le nostre considerazioni. invece dovremmo ripartire dai talenti, da quello che può essere veramente un lavoro che ti dà anche gioia, ti gratifica. Il Nautico a Procida è un istituto che dà delle opportunità enormi, prepara al lavoro e consentitemi, è anche un istituto che non dovrebbe rispettare quelli che sono criteri di altre scuole, perché le attività laboratoriali sono così importanti che subiscono in realtà i nautici anche un controllo particolare da parte di più ministeri, per cui dovrebbero avere delle regole che valgono solo per i nautici. Lei visiterà anche l'istituto in cui sono stati installati dei simulatori, quindi le moderne tecnologie applicate alla scuola. Vorrei un suo commento. Ma la scuola deve fare questo. Noi a volte pensiamo, anche in maniera per carità corretta, che la scuola debba creare capacità critica ed è vero. Però la scuola ti deve dare pure quegli strumenti attraverso i quali terminato il percorso di istruzione tu possa immediatamente lavorare. Dovrebbe essere sempre così. Non lo è sempre la Procida una dirigente scolastica, Maria Saletta Logobardo, che veramente è una persona illuminata, è una persona innamorata e appassionata della sua scuola e cerca veramente di dare degli strumenti ai nostri ragazzi affinché possano trovare la loro strada. Rispetto alla questione femminile, io lo dico sempre quando vado nelle scuole, noi dovremmo cercare di evitare la riproduzione di stereotipi. Lo dico perché non ci accorgiamo a volte che facciamo degli errori, a volte per scherzare con i ragazzi dico quante volte avete sentito dire che le donne non si devono vestire in maniera provocante oppure che le donne si possono vestire in maniera provocante ma questo voglio dire non deve impedirle, non deve impedire alle singole donne di stare bene. Quante volte avete sentito dire che un uomo invece non si deve vestire in maniera provocante? perché faccio queste provocazioni? Perché a volte noi attribuiamo al femminile delle caratteristiche che non sono naturali che in qualche maniera sono un'attribuzione culturale che ci siano donne capitano donne che sono premiate fa capire che in realtà sicuramente ci sono dei mestieri che possono essere attribuiti alle singole persone a prescindere da quello che è il sesso della singola persona. Certo ci sono dei lavori che casomai con la maternità in qualche maniera ti limitano perché non è facile la vita degli uomini di mare sicuramente non è una vita facile ma dipende naturalmente da quelle che sono le scelte delle singole persone. È un momento di gioia un momento di festa ma anche un momento di riflessione di analisi perché il settore dell'istruzione tecnica del settore nautico è molto importante è una diciamo una specificità che per i territori è veramente fondamentale e in tutta Italia è così ma credo che Procida abbia un'importanza ancora maggiore a parte la storia ma poi la rilevanza che un istituto di questo genere ha per la formazione dei marittimi e mi permetto di dire non solo perché poi dall'istituto nautico di Procida escono tante persone che poi hanno anche altre diciamo altre prendono altre strade altre direzioni è un istituto che mette insieme un aspetto di alta professionalità specifica anche con la capacità di dare una formazione generale che possa aprire tutte le strade possibili è un orgoglio per Procida è un orgoglio per tutta la scuola campana e quindi credo che questo sia un momento veramente importante per fare ancora di più e meglio andremo anche a visitare proprio l'istituto in cui sono stati installati dei simulatori quindi l'importanza anche delle tecnologie a servizio dell'istruzione certo l'istruzione tecnica è caratterizzata proprio dalla possibilità di dare insomma di unire pratiche e teoria soprattutto di utilizzare un metodo che proprio permetta poi ai ragazzi di maturare delle competenze immediatamente spendibili e quindi la possibilità di avere questi laboratori innovativi è una opportunità importantissima diciamo in questo momento proprio irrinunciabile perché poi ormai la tecnologia è uno strumento che deve permeare tutta l'offerta formativa quindi è importantissimo che un istituto di questo genere possa avere una evoluzione tecnologica così importante ed oggi ne vedremo un esempio è una giornata importante per noi perché 190 anni è un traguardo veramente prestigioso il nostro nautico appunto sono 190 anni che forgia gli uomini di mare i nostri capitani ieri proprio c'è stato un servizio al Tg5 su questa prima nave nave da crociera ecologica dove c'era un nostro comandante inaugurato dalla madrina Sofia Loren ma i nostri comandanti i nostri diciamo i nostri allievi i nostri studenti si fanno si fanno onore ai quattro angoli del mondo questo convegno appunto celebra la giornata finale di questi festeggiamenti che iniziate con il peribro dell'isola con la nostra lancia con gli studenti che hanno fatto appunto il giro di Procida è proseguito con una festa al nostro istituto dove abbiamo anche per esempio premiato gli angeli del fango di Casa Micciola e oggi sarà un convegno appunto sul futuro del nostro nautico avremo l'ammiraglio Vitiello avremo il presidente di Confitarma naturalmente la nostra preside le autorità politiche dello shipping della scuola c'era l'assessore Fortini e sarà bello sentire quali sono le visioni le visioni del futuro del mare possiamo dire così sarà anche oggi premiremo le nostre eccellenze come Francesco che ha vinto la gara dei nautici come Celat che ha vinto un contest di segno in collaborazione con il Comic Con come un'altra studentessa Michela che ha vinto un concorso di Esabac insomma sarà una bella giornata di festa e di riflessioni sul futuro del mare del nostro nautico con la Fortini andrete anche a visitare l'istituto verrà a visitare il nostro istituto ed inaugurare un nuovo simulatore di navigazione che abbiamo installato l'anno scorso e grazie ai fondi della regione Campania visiterà il nostro museo del mare che da un anno che lo abbiamo aperto al pubblico in occasione di Procia Capitale e poi appunto per questi 190 anni e sarà un onore averla da noi beh appunto lei come ha giustamente ricordato si celebra i 190 anni che sono tanti sono tanti per un istituto nautico pensiamo 190 anni fa gli ufficiali gli allievi ufficiali che uscivano da questo istituto come erano vestiti che tipo di strumenti avevano navigavano con le bussole magnetiche con se stanti di legno eppure hanno solcato gli oceani e la scuola di Procida da sempre ha avuto questa tradizione di sfornare alunni e allievi ufficiali che hanno girato il mondo che sono stati poi il fiore all'occhiello di numerose società di navigazione lei ha fatto un ottimo esempio la Palinuro è una nave a vela anzi il Palinuro perché la nave militare è maschile è maschio quindi il Palinuro è una nave a vela dove però sono state applicate tecnologie moderne tra cui i simulatori i simulatori al giorno d'oggi sono un aiuto essenziale in qualsiasi settore in qualsiasi campo poter prevedere quello che sarà poi la vita reale questo sia sulla nave in un'industria in qualsiasi settore è fondamentale al giorno d'oggi ma il futuro lo vedo bene nel senso che anch'io essendo ispettore di una società di navigazione ricordo sempre tutte le riunioni in cui partecipo che le merci che viaggiano via mare è praticamente tutto noi non abbiamo in generale contezza di quello che si trasporta via mare perché quando si parla di nave il pensiero va alla nave da crociera alla nave dei passeggeri ma le miliardi di tonnellate di carico liquido carico secco di container che viaggiano nel mondo sono proprio tante e le navi sono comunque in continuamento sono sempre più navi che vengono costruite nel mondo e c'è sempre più bisogno di marittimi si ha sfornato tanti ufficiali diciamo di coperta di macchine della marina mercantile ma tanti di questi ufficiali sono diventati anche ufficiali di marina quindi noi siamo molto legati a questo istituto a questa grande tradizione marinara dell'isola di procida e questo anniversario dei 190 anni si celebra in una giornata particolare perché oggi è il 10 giugno ed è la giornata della marina militare quindi c'è proprio questa sinergia giornata della marina militare che noi abbiamo celebrato ieri nella base di la spezia con una cerimonia veramente importante ma questa giornata è stata anche ricordata da un evento reale perché proprio oggi nel golfo di Napoli è ormeggiata una nave turca un mercantile che ieri era stato soggetto ad un'azione da parte di migranti imbarcati a bordo quindi la marina militare è intervenuta con due elicotteri e con delle squadre della brigata marina San Marco e ha riconsegnato la navi al suo equipaggio quindi è una giornata particolare che celebriamo in questo istituto dal nome importantissimo Caracciolo e mi fa particolarmente piacere portare la vicinanza e il saluto del nostro capo di stato maggiore l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino e di tutta la marina militare è stata una cerimonia bellissima a 190 anni dal 1833 sono proprio tanti anni che a Napoli si studia e si parla di mare in maniera consapevole e professionale l'istituto nautico appunto è nato in quegli anni e ciò che è importante è che Procida non è l'unica ad avere l'istituto nautico il primato è che su un'isola sia nata una scuola per la formazione nautica e che sia stata in grado di creare poi una flotta capace di competere con le più importanti marinerie e questo è il filo conduttore che non si è mai interrotto dal passato al presente al futuro va bene grazie forza forza a questa settimana si arriva dopo un percorso un percorso molto lungo che ci ha visti costruire un giorno dopo l'altro gli incontri con le navi che sono venute a visitarci le navi che abbiamo potuto visitare con le quali abbiamo scritto grandi progetti e poi i racconti dal mare che sono stati un ciclo di seminari con i quali abbiamo invitato a venire sull'isola i grandi protagonisti della marina militare e mercantile ci sono stati grandi sommergibilisti il comandante della Vespucci che ha portato la nave negli Stati Uniti dopo un lungo periodo di ammodernamento la prima donna comandante della marina militare e poi un ex allievo che si era diplomato qui aveva fatto tante missioni in Antartide ecco il senso di questa giornata è di fare squadra tutti insieme come fanno le orchestre ovvero di avere la capacità di essere rigorosi rispetto alle regole e allo stesso tempo avere la capacità di trasgredire quelle stesse regole per innovare è l'augurio che facciamo i ragazzi e in questa giornata meravigliosa abbiamo sentito dire tante cose molto molto belle ai ragazzi sono le speranze dei grandi che sono stati invitati i grandi ammiragli i grandi imprenditori i grandi amministratori la scuola ha preparato per loro una festa meravigliosa nella mia speranza cioè che i ragazzi possano prendere alcune di queste questi inviti e queste esperienze e farli propri nei propri desideri quando spegneranno le 190 candeline e a loro auguri grazie 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 grazie